Le parole chiave sono innovazione, integrazione e sostenibilità. Siamo a mostra convegno Expo Comfort che dal 15 al 18 marzo 2016 a Milano si è confermato il più importante appuntamento mondiale nell'impiantistica civile e industriale, nella climatizzazione e nelle energie rinnovabili. Giunta alla quarantesima edizione, la Fiera ha avuto il suo cuore pulsante nell'integrazione fra tecnologie, sistemi e soluzioni, grazie alle oltre 2.000 aziende partecipanti, di cui il 40% estere, in rappresentanza di 55 paesi, per un totale di oltre 150.000 visitatori da tutto il mondo. EICAR è un'associazione con più di 60 anni di esperienza. È un'associazione culturale nel settore della climatizzazione, efficienza e fonti rinnovabili. Al suo interno più di 2.400 soci, prevalentemente progettisti, ma anche aziende, che trovano in EICAR un terreno neutrale per fare cultura. Allora, noi promuoviamo principalmente quelle che sono le connessioni tra il mondo della progettazione e della costruzione, tra gli installatori, proprio per promuovere quelle che sono le tematiche di efficienza, fonti rinnovabili, che sono poi le tematiche ad oggi, da 60 anni ne parliamo, ma ultimamente sono quelle principalmente che trovano in vigore. Le attività principali di EICAR sono quindi convenistica, formazione. Abbiamo una sezione, EICAR Formazione, che fa formazioni su tematiche principalmente di progettazione. Dopodiché abbiamo una grossa importanza sia capillare sul territorio, quindi abbiamo più di 22 delegati territoriali che portano la cultura che vogliamo trasmettere ai progettisti sul territorio. E poi l'interfaccia con le istituzioni, perché naturalmente è un canale bidirezionale. Le necessità le portiamo al ministero, le necessità dei ministeri e autorità le portiamo poi sui progettisti per un luogo di confronto e di sviluppo. Mostra Convegno è un luogo dove si possono creare connessioni tra le persone. Quindi noi ci siamo perché vogliamo creare sempre una maggiore connessione culturale, è un momento di confronto tra tutti i mondi e lo facciamo attraverso i nostri seminari. E poi molte delle aziende, le nostre socie sono qui presenti, la stessa Mostra Convegno è socia EICAR e bidirezionalmente crediamo che questa sia una delle più grandi vetrine in cui dobbiamo esserci per far vedere poi anche il Made in Italy che sviluppò a livello internazionale. Grazie per la visione!